Gentili telespettatori, buona giornata. Tiberio Timperi, la scelta di campo con Matteo Salvini. Fioccano firme a favore dei referendum Lega Radicali sulla giustizia, tra queste anche quella di molti giornalisti e conduttori televisivi, Tiberio Timperi compreso. Oltre al noto volto si aggiungono anche l'attore Fabio Fulco, la giornalista Maria Giovanna Maglie, che da tempo aveva confermato la propria adesione. Tre nomi che si aggiungono a una lunga lista che include anche noti esponenti della sinistra. L'ultimo a dare il proprio ok ai referendum è stato l'antagonista di sempre, l'altro Matteo, il Renzi. Il leader di Italia Viva si è espresso a favore lasciando la propria firma nella sede del partito radicale. Ha detto io quando voto però non penso a Salvini ma penso a Enzo Tortora. Va bene così, va bene lo stesso Matteo Renzi, va bene così. Ho firmato, dice, i referendum promossi dai radicali, perché quando parla di referendum sulla giustizia si ricorda l'impegno dei radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora che in nome della battaglia per la giustizia giusta ha sacrificato una parte della sua vita. Sono grato ai radicali per questo sforzo. Questa è l'unica vera forma di pressione sul Parlamento per una legge ulteriore rispetto alla legge Cartabia che vada nella direzione della giustizia giusta, uno strumento di pressione perché il Parlamento faccia la propria parte. Giustissimo. Quanto basta per rendere il leader della Lega Matteo Salvini soddisfatto che dice anche un giudice, se sbaglia, deve pagare, come qualsiasi lavoratore e persona. Non pensavamo di poter raccogliere 300.000 firme in tre fine settimana. Queste firme fanno una rivoluzione democratica e pacifica. Sono firme che aiutano Draghi, governo e Parlamento a correre sulle riforme. La riforma della giustizia manca da 30 anni, quindi chiunque va a firmare dà un aiuto al governo e Parlamento, perché sono 30 anni che la politica promette riforme e non le fa. Io non posso firmare a questi referendum, ma se fossi stato in Italia in questo momento, ma non posso arrivare in Italia proprio per motivi aerei e anche perché non ho ancora avuto il rinnovo del passaporto. Sto aspettando che l'ambasciata mi chiami per andare a ritirarlo tra una o due settimane. Quindi non ho neanche la possibilità di sbulazzare in Italia, ma se fossi lì sarei andato a cercare il primo gazebo che fosse stato della Lega, dei radicali, di Fratelli d'Italia, sarei andato a firmare per tutti e sei i referendum. Anche se io come la Meloni sarei d'accordo sul firmarne solo quattro, ma il quesito che parla proprio dove si chiede di cancellare la legge Severino, che impedisce ai condannati di poter essere eletti in politica, io dico cominciamo a cancellare quella legge, anche se io non sono molto d'accordo, perché non so realmente se si riesce a risolvere il problema a monte, il fatto che un giudice possa mandare a processo una persona per idee politiche, in Italia una cosa del genere. E beh, ho qualche dubbio, voi no? Pertanto non so se si riesce a risolvere il problema a monte, impedire a qualche giudice di fare qualche sentenza politica, allora se non so che si riesce, non sono sicuro che si riesca a risolvere il problema alla radice, allora cominciamo a togliere la legge Severino. Ecco, questa è la mia idea, pertanto io andrei a firmare tutti e sedici i quesiti del referendum, quindi come se l'avessi fatto, la mia firma non c'è, ma è come se ci fosse, quindi annoveratele tra le firme, sono 300.000, 301.000, la mia è una firma onoraria, nel senso che non è reale, ma è come se ci fosse. Bene, cosa volevo dirvi? Guardate questo, qualcuno l'avrà notato, no? Guardate. Questi li fa mia moglie, sono dei tulipani fatti con una gomma, si chiama gomma eva, gomma fommi, poi in ogni paese la chiamano con una differenza, in Italia fommi, foami, in altre parti, eccetera, eccetera. Bene, voi avete visto che su Teleitalia Seconda Rete ci sono le creazioni di Carla, che sono mia moglie che fa tutti questi lavoretti, cosa che io non sarei mai capace di fare, ma neanche sotto tortura, nel senso che io non riuscirei mai a fare una creazione del genere, anche se me la spiegano passo passo io non sono portato. Vedete anche qui che c'è un, come si chiama, il cuscino della suocera. Vedete questa, la base? Questa base è una scatoletta di tonno, vuota, e questo qui è un, non un cactus, ma quello che è il cuscino della suocera, non so come si chiama, con il suo fiore sopra, è fatto sempre di una gomma che vendono nelle cartolerie, pertanto anche lì io non sarei mai capace di fare una roba del genere, io vi posso parlare senza fermarmi dieci ore di politica, ma se mi metti a fare un cactus finto non ci riuscirei mai. A qualcuno piacciono anche questi, no? Allora, guarda, questo è un mappamondo piccolino che si accende quando voi toccate, quando voi toccate la base, vediamo se riesco. Marca miseria. Allora, quando voi toccate anche qui il ferro, che non è un ferro, è una sorta di plastica ricoperta di qualcosa, quando voi... Allora, dentro c'è una lampadina a risparmio energetico, quindi non può avere le tre luci differenti, perché quelle a risparmio energetico, quelle led, non sono per modulare la luce, quindi se la metto in una luce così debola e poi comincia a lampeggiare. Però a me sempre sono piaciuti i mappamondi, no? Ecco, questo lo rimettiamo qua. Anche quello dietro si accende, però l'ho comprato fa una luce molto più debole. Dovrei aprirlo e andare a metterci dentro una lampadina a led, in modo che possa fare più luce. Momo segno perché me lo sono sempre dimenticato. Adesso me lo segno qua perché mi sono ricordato parlando con voi, mi scrivo qua da comprare la lampadina per il mappamondo. Mentre quella pianta lì dietro continua a crescere, fra un po' arriva per terra. Adesso comincerò a farla girare per la casa, no? Una pianta tentacolare. Va bene, io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti, arrivederci, arrivederci a presto.